E qui si conclude il tour, eccovi la, Mario, Ale, ciao ciao iscrivetevi, iscrivetevi a tutti i canali, iscrivetevi, iscrivetevi in questo canale, ciao Che è già l'ho freddo, io caro, dai, 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 dai Adesso il video è detta, avevo capito che sulla neve fresca era dura già nel piattere il parcheggio Ci siamo? Papà, vai di giù, vai che vi riprendo Bellissima Comunque molto molto complicato Aderenza, zero, zero proprio, proprio zero, il davanti c'è, dietro l'ho fatto tutto con la gambetta fuori, sulle curve, è strano, poi bisogna prendere confidenza perché è la prima No, va, 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 va Sì Sì Desta Desta Un bel visto neve fango eh Da 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 bomarco Hop 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 Non 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 Non